pesaro capitale della cultura si presenta al maxi di roma mille interventi in un anno la neurochirurgia pesarese è un'eccellenza nazionale carcere sovraffollato a villa fastigi 90 detenuti in più del consentito fossombrone estorsioni ai danni di un imprenditore agricolo ritrovo di vecchie glorie bianco rosse per i 125 anni della vispesaro buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale rossini news oggi è giovedì 7 dicembre apriamo questa edizione occupandoci del conto alla rovescia verso e pesaro capitale della cultura 2024 che ieri si è ufficialmente presentata al museo maxi di roma c'erano chiaramente anche le nostre telecamere vediamo la capitale della cultura 2024 si è tolta i veli nella capitale con la c maiuscola il programma la natura della cultura di pesaro 2024 è stato presentato ufficialmente al maxi di roma nel talk show condotto dalla giornalista serena bortone ricci vimine ritanno hanno illustrato come la provincia di pesaro urbino affronterà questa sfida alla presenza di grandi personalità del mondo della politica ministro san giuliano in primis della cultura e del giornalismo una capitale che germoglierà con il cater capodanno di radio 2 in piazza del popolo alla presenza delle esibizioni di colapesce di martino proseguendo con un anno da 329 eventi e 50 comuni in campo una natura della cultura mobile ubiqua imprevedibile operosa e vivente queste le cinque sezioni di eventi che avranno la inaugurazione istituzionale il 20 gennaio alla vitrifigo arena col presidente mattarella e la conduzione di paolo bonolis pochi giorni dopo arriverà la biosfera in piazza che sarà l'icona permanente di pesaro 2024 prima di arrivare al 29 febbraio compleanno di giochino rossini che donerà alla città il nuovo auditorium palace cavolini è un appuntamento unico perché se riusciremo a giocarci al meglio come stiamo facendo potrà segnare lo sviluppo del nostro territorio per almeno un decennio abbiamo coinvolto tutti i comuni della provincia una grande occasione per scoprire l'intero territorio di pesaro urbino ed è un modo anche per far crescere la nostra proposta culturale nei prossimi anni insieme ad altre città medie come noi penso in particolar modo a matera mantova che sono città con le quali abbiamo lavorato molto con parma con tempio usanti con tempio pausagna e con altre città medie come noi che hanno deciso di investire sulla cultura per costruire nei prossimi anni lavoro e sviluppo presentarlo qui nel luogo che può un tempio nazionale anche del contemporaneo e dell'arte contemporanea vuole essere proprio l'idea di stare su quello che ancora vogliamo creare generale tutto tutto lo sia parla di patrimonio di sostenibilità di tecnologia naturalmente ma vogliamo a partire dal luogo del contemporaneo dove pesano una grande storia anche rispetto all'arte contemporanea arrivare a raccontare appunto con forza una storia nuova e su questo chiamiamo a raccolta le comunità le scuole le intelligenze gli artisti quelli che vorremmo che rimanessero a pesaro quelli che vorremmo che tornassero a pesaro nella regione come accade con la biosfera questo grande investimento che nasce dalla 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 tecnologia ma nasce anche dalla sapienza di tante imprese e menti tra marca e romagna quindi insomma siamo molto contenti di questi input e crediamo che potranno essere generatori di tanta cultura e tante opportunità anche di lavoro per i mesi e per gli anni a venire. Pesaro capitale della cultura che è arrivata a Roma passando per Berlino e New York a braccetto degli eventi di promozione del Rossini Opera Festival Il presentarci in queste tappe con questa doppia nome di Rossini Opera Festival e di capitale della cultura ha incrementato l'interesse e la volontà di accogliere la nostra proposta quindi sicuramente è un binomio che funziona è un binomio che dalla nomina abbiamo subito spinto tanto quindi tutti gli appuntamenti dove normalmente il protagonista del ROF sono stati fatti all'insegna di capitale della cultura e quando è stata la volta di presentare capitale della cultura spesso Rossini Opera Festival è stato il testimone al scelto. Forma la cultura di tutti, di tutta la gente per cui le canzoni se sono di grande livello portano la gente ad un altro livello. Quello che si scopre è che se uno offre dei prodotti anche culturali anche un po' impegnativi però nella dovuta maniera la risposta è enorme voglio dire questo che c'è bisogno che di un'offerta alta non è frequente però c'è Anche come prefettura faremo tante cose quindi viva Pessaro, viva la provincia di Pessaro perché saranno tutti interessati e speriamo che sia un bellissimo anno. Commercio è partner ufficiale dell'evento avendo investito in questa iniziativa che porterà risultati molto positivi per l'economia turistica. Pessaro Capitale della Cultura è un progetto che riguarda tutti, tutti abbiamo fatto il tifo perché Pessaro riuscisse a ottenere questo riconoscimento e tutti ci impegneremo affinché davvero il 2024 possa essere un anno di grandi soddisfazioni e di grande crescita per la città. Io mi occupo di coordinare i volontari per Pessaro 2024, non sono persone che lavoreranno chiaramente sulle attività, sui progetti, sulle manifestazioni ma sono coloro che potranno vivere da protagonisti e non solo da spettatori la Capitale Italiana della Cultura, tutto ciò che ci girerà attorno. Sono qui oggi a Roma sia per curiosità anche per affiancare il mio collega e per capire come muovermi anch'io tra un anno, visto che un anno è lungo ma per noi è brevissimo. Ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo di sanità. Il reparto di neurochirurgia di Pessaro ha raggiunto un traguardo fuori dal comune di mille interventi in questo 2023. Reparto riconosciuto di eccellenza nazionale che continua ad essere un riferimento anche per i pazienti che vengono da fuori regione. Nel 2024 compierà 20 anni di presenza qui a Pessaro il reparto di neurochirurgia, un reparto di eccellenza assoluta che si avvicina a questo anniversario tagliando un traguardo importante in questo 2023, un traguardo quantitativo ma anche qualitativo, quello dei mille interventi neurochirurgici realizzati già nei primi 11 mesi dell'anno raggiunti a fine novembre. 3.000 interventi, l'80% dei quali programmati, il 20% circa urgenti che fanno di questo reparto un punto di riferimento a livello non solo regionale ma anche di eccellenza nazionale nonché meritevole di riconoscimenti anche a livello internazionale. Ci sono dati oggettivi a testimoniare la funzionalità del reparto diretto dal primario letterio Morabito, quelli di un 57% di pazienti presi in carica per quello che riguarda la provincia di Pesorubino ma anche un 37% delle altre province marchigiane nonché un 6-8% di mobilità attiva di pazienti presi in carico dalle altre regioni. Il traguardo dei mille interventi è un grosso traguardo perché dovete immaginare il lavoro che c'è dietro di controllo dei pazienti, di visita, del reclutamento dei pazienti che devono essere operati e in questo devo ringraziare i miei collaboratori sia medici che infermieri perché è un'organizzazione di tutti i percorsi che prevedono la gestione dei pazienti, la selezione e l'utilizzo della sala operatoria che è il vero collo di bottiglia dove i riparti chirurgici si fermano. Il traguardo dei mille interventi è un traguardo quantitativo importante perché noi ci rivolgiamo a tutta la regione Marche quindi non sono solo pazienti della provincia di Pesero ma il 35% è del resto delle Marche e il 7% è pazienti di fuori regione quindi è un'attrattività importante. D'altra parte Newsweek ci ha riconosciuto nella classifica che negli ultimi quattro anni ha fatto dei 150 migliori centri al mondo, noi siamo in seconda posizione in Italia e comunque dentro questa classifica dei 150 migliori centri di neurochirurgia del mondo. È un'eccellenza vera, mille interventi di cui molti per tumore al cervello rappresenta icasticamente la sanità di eccellenza di una regione e di un paese, poi ci sono anche altre lacune, ci sono dei problemi ma naturalmente il dottor Morabito ha uno staff che riesce a garantire un numero così alto di prestazione pur con le difficoltà che il paese attraversa per la carenza di medici, tetto di spese eccetera. Dai numeri confortanti del reparto ospedaliero pesarese passiamo invece ai numeri preoccupanti che arrivano dal carcere di Villa Fastigi. Secondo l'ultima rilevazione del Ministero della Giustizia del 30 novembre scorso i detenuti presenti nel penitenziario pesarese erano 240 su una capienza regolamentare di 153 posti. Secondo il garante dei diritti Giancarlo Giulianelli si tratta di una situazione preoccupante che crea problemi ai detenuti e al personale che deve garantire la vivibilità e sicurezza delle strutture. Sovraffollamento aggravato anche dalla carenza di organico di personale penitenziario. Ed ora passiamo alla cronaca e ci occupiamo di un'indagine dei carabinieri che ha portato a denunce per estorsione nei confronti di un imprenditore agricolo di Fossombrone. Prima le intimidazioni attraverso incendi dolosi, poi i ricatti. I carabinieri di Urbino hanno chiuso il circhio su indagini iniziate lo scorso luglio quando nelle campagne di Fossombrone fu arrestato in flagranza di reato un albanese accusato di estorsione. Nello specifico un imprenditore agricolo dopo aver subito l'incendio di tre veicoli e un altro danneggiamento mediante l'inseramento di acqua e sale all'interno del serbatoio aveva trovato un messaggio appeso ad un albero contenente una richiesta estorsiva. Di lì a poco veniva avvicinato dall'arrestato che gli offriva protezione e tranquillità in cambio di 4.000 euro oltre alla rivelazione del mandante dei danneggiamenti subiti. La vittima però anziché cedere alla richiesta denunciava tutto ai carabinieri di Urbino i quali organizzavano un appuntamento controllato durante il quale l'estorsore veniva arrestato immediatamente dopo aver ricevuto il denaro. Approfondite le indagini al fine di individuare il mandante dei danneggiamenti e della richiesta estorsiva è stata individuata una donna di 30 anni parente della vittima la quale a seguito di dissidi interni alla famiglia avrebbe ingaggiato l'albanese commissionando gli danneggiamenti. Dopo l'incendio però il rapporto tra i due si è incrinato perché l'uomo non vedeva adeguatamente remunerate le proprie azioni delittuose. Così ha iniziato a minacciare la donna di rivelare il misfatto procedendo poi autonomamente alla richiesta estorsiva nei confronti dell'imprenditore. Gli indizi e le prove raccolte hanno dunque consentito agli inquirenti di chiudere il cerchio con la denuncia per estorsione e danneggiamento a seguito di incendio a carico dei due indagati. Durante le feste natalizie le corse degli autobus in provincia di Pesaro e Urbino saranno sospese solo il 25 dicembre e il 1 gennaio. Lo ufficializza Adria Bus attraverso un comunicato che fa seguito al servizio che vi abbiamo mostrato proprio nel telegiornale di ieri. Adria Bus si adegua alle direttive della regione che non ha autorizzato la sospensione per i giorni 24, 26, 31 dicembre e 6 gennaio, inizialmente richiesti per carenza di autisti. La presidente Lara Ottaviani e il direttore Massimo Benedetti comunicano di aver reperito il personale necessario e ringraziano i dipendenti che hanno compreso la situazione dopo un anno già contrassegnato da tante ferie negate per garantire il servizio di corse scolastiche a fronte di una cronica carenza di autisti. In questo mese di dicembre continuano a partire diversi programmi su Rossini TV dopo Sinfonie di Maestri e Occhi della Tigre. Iniziati proprio questa settimana a lunedì 11 dicembre alle ore 21.20 parte un nuovo format targato Rossini TV. In questo caso ci occupiamo di un tema molto delicato come quello del cyberbullismo. Si intitola Affrontare le minacce della rete, capire, prevenire e proteggere. Trasmissione che vedrà come relatori fissi il docente e scrittore Gianmarco Cecconi e l'ex segretario del sindacato di polizia SIULP Marco Lanzi. Il programma moderato dalla conduzione di Paolo Pagnini fornirà strumenti e indicazioni utili a famiglie adolescenti per creare una consapevolezza dei pericoli del web. Divulgazione che Cecconi e Lanzi portano avanti da tempo sui banchi di scuola e da questo lunedì quindi anche su Rossini TV. Il Consiglio provinciale ha approvato il piano di programmazione della rete scolastica 2024-2025 dopo che l'ultima legge di bilancio ha inquadrato per le marche il taglio di 19 autonomie scolastiche. Quattro le modifiche avviate in provincia. A Pesaro dove l'istituto agrario Cecchi accorperà anche il centro provinciale per l'istruzione degli adulti. A Urbino dove viene avviata la fusione fra gli istituti comprensivi Pascoli e Volponi. A Fano dove viene ritenuto non ammissibile il mantenimento dei circoli didattici Santorso e San Lazzaro e a Cagli dove il Celli e il Tocci si uniranno in un nuovo istituto omnicomprensivo. Le tante associazioni di volontariato di solidarietà di Pesaro si ritroveranno lunedì 11 dicembre alle ore 18 nella chiesa San Giovanni Battista in Via Passeri. Associazioni che dunque rispondono presente alla convocazione del Vescovo Sandro Salvucci e della Caritas Diocesana che hanno deciso di riunire per un momento di confronto e auguri natalizi le tante realtà territoriali che si spendono per il prossimo. Dall'8 al 10 dicembre arriva al Teatro della Fortuna di Fano uno sguardo dal ponte di Arthur Miller con l'interpretazione di Massimo Popolizio che firma anche la regia di uno spettacolo inserito nella rassegna Fano Teatro di Amat. Ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn il testo concentra una serie di temi scottanti come la fuga dalla povertà e le tensioni dell'immigrazione clandestina la caccia allo straniero. L'associazione culturale Ars Musica concluderà l'undicesimo festival organistico World Organ Days Pesaro con il concerto Luci di Natale che si terrà sabato 9 dicembre alle ore 19 e 15 presso il santuario della Madonna delle Grazie ad esibirsi Luca Scandali all'organo il tenore Beniamino Son e i cori Città di Tolentino e Giardino delle Voci. Entra nel vivo il periodo dei regali natalizi a Pesaro c'è un'attività commerciale che consente ai clienti di perfezionare i propri acquisti direttamente attraverso un'applicazione vediamo come. Prima settimana di dicembre entra nel vivo il periodo degli acquisti natalizi periodo frenetico per le attività per i clienti che spesso non hanno tempo di appunto di dedicarsi ai doni natalizi ci sono attività come Heliograf con 40 anni di esperienza che vanno incontro a questa esigenza 40 anni di esperienza nel settore delle stampe delle fotografie delle foto regalo e ora si va incontro appunto alla fretta al poco tempo dei clienti con una nuova app. Benissimo esatto proprio la fretta è quello che ti porta a non riuscire magari andare nei locali nei negozi nel dal tuo negoziante di fiducia allora abbiamo attivato insieme all'aiuto di un nostro fornitore abbiamo attivato un'app dove ognuno comodamente da casa o nel posto che preferisce con le foto che ha sul telefono può creare in autonomia il foto regalo quindi l'intramontabile maglietta le palline per l'albero la tazza piuttosto che un cuscino o dei quadri e generare direttamente l'ordine il carrello e questo ordine arriva a noi noi personalmente che realizziamo stampiamo e creiamo per voi il prodotto da regalare insomma di immortalare la foto anche in un oggetto che può essere regalato e donato soprattutto in questo periodo di festività. Hai citato una serie di opportunità quali sono le più gettonate in questo periodo? Le più gettonate sicuramente sono la pallina di Natale da appendere all'albero ce ne sono almeno due versioni e la tazza classica per le bevande calde o anche come portapenne perché ognuno poi ne fa un suo utilizzo o il cuscino o addirittura l'orsetto o il peluche morbido con la propria foto da abbracciare e coccolare molto adatto a bambini o anche agli innamorati perché sono queste poi spesso le categorie più gettonate. Dalle tazze alle magliette ai cuscini ma poi dicembre anche il mese dei calendari questo è proprio un must del periodo. Sì ci sono anche qui diversi modelli di calendario da quello singolo con tutto l'anno a quello con i 12 mesi quindi ogni foto per ogni mese ci sono sempre le realizziamo quasi fino all'ultimi giorni quindi approfittate siamo qui per voi. Ed ora passiamo allo sport è vigilia di campionato per l'Ital Service Pesaro Calcio a 5 che sta vivendo il suo miglior momento stagionale dopo aver raggiunto il quarto posto in classifica. Playoff che l'Ital Service cercherà di consolidare domani al Palamegabox alle ore 19 contro Mantova penultima in classifica. Dal calcio a 5 al basket è agli ultimi dettagli il tesseramento di Andrea Cinciarini con la VL. L'esperta guardia 37enne cresciuta cestisticamente a Pesaro ha già annunciato il suo congedo dalla squadra spagnola del Saragozza. VL che ricordiamo sarà impegnata domenica alle 18.30 alla Vitrifriguarena contro Trento. E ultimiamo quest'edizione del nostro telegiornale con un'altra notizia di sport. Passiamo a parlare della VIS Pesaro in attesa della trasferta di domenica a Perugia. Ha festeggiato proprio ieri sera all'Hotel Flaminio il suo 125esimo compleanno in una festa da 600 invitati alla presenza di tante vecchie glorie del passato Vissino. E cominciata con il pullman della squadra abbracciato dall'affetto dei suoi tifosi si è conclusa con la commozione rivolta ai vissini che vegliano dal cielo. In mezzo ogni declinazione di passione bianco-rossa in una serata all'Hotel Baia Flaminia dedicata ai 125 anni della VIS Pesaro allestita da tutti i gruppi organizzati del tifo bianco-rosso. Travolgente la passione degli ultras che ha fatto da colonna sonora permanente ad una serata di viscerale amore al di là dei risultati. In un Flaminio agghindato di cimeli e maglie storiche sono scrosciati applausi per la carrellata di vecchie glorie salita sul palco fianco a fianco alla VIS 2023-2024. Dagli eroi di Arezzo a Rigoni, Ortoli, Deiulis e Segarelli in una lunga passerella che si è srotolata da Sandreani a Cantone passando per Cangini, Mosconi, Carrettucci, Casadei, Battisodo, Magi, Giommi, Dolino, Scarpa e il DS Cioncolini. Vissini adottati da Pesaro o che lontano da Pesaro si sono legati con un cordone umbilicale mai reciso in decenni di distanza. Un cuore bianco-rosso che continua a battere e che ha lanciato un potente incitamento alla VIS che si giocherà tanto nel suo 126esimo anno. La sento molto la responsabilità, il peso, l'importanza della storia, della tradizione di questo club. Il senso di responsabilità è la prima cosa che mi viene in mente. Penso che vedo la VIS come un bene, un patrimonio prezioso che va custodito e va protetto e fatto crescere. Per me ha un valore doppio, un'emozione grande vivere questo momento di festa per celebrare una società importante, una società storica e per me è motivo di grande orgoglio. Tra l'altro essendo, come dicevi prima, di Pesaro indossare questa maglia è veramente un'emozione molto importante. Si respira veramente una grande passione da parte della città e a noi, specialmente in quest'anno, devo dire che i nostri tifosi sono veramente il nostro uomo in più perché comunque ci sostengono dall'inizio alla fine. Penso e spero che abbiano capito quello che stiamo cercando di fare noi durante le partite. Faccio un gruppo di ragazzi fantastici, stasera lo dimostra anche l'unione che c'è tra noi e la tifoseria, questa è la cosa più importante, quindi adesso cercheremo di fare qualcosa di importante per cercare di portare la VIS dove merita e di conquistare questa salvezza con più facilità. È veramente emozionante, è una cosa che secondo me vale anche molto di più dei risultati perché i risultati, il calcio è spesso effimero, c'è il risultato però poi chissà non c'è. Avere tanta gente così appassionata da emozione, da gusto, da soddisfazione è quello per cui da quando sono bambino penso di dover fare calcio, da quando avevo 4-5 anni ho iniziato a far calcio, questa qui era l'emozione che ricercavo. Allora davvero complimenti alla VIS Pesaro e adesso restate con noi su Rossini TV perché subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale intorno alle ore 20 andrà in onda appunto la presentazione del bilancio di sostenibilità 2021 a cura dell'azienda AMI. Mentre in prima serata torna, così come tutti i giovedì, una nuova puntata di Insieme a Canestro. Seguiteci, saremo in diretta. Questa sera ci sarà con noi l'ala della Carpegna Prosciutto Basket Trevon Bluiet e il giornalista Michele Romano. Potete commentare in diretta attraverso il numero di WhatsApp che vedete in sovrimpressione oppure attraverso la nostra diretta Facebook. Commentate, scriveteci perché potete vincere i biglietti per la partita di domenica. E poi domani vedete qui il nostro Paolo Pagnini che torna con la rassegna stampa. Quindi vi aspettiamo in diretta alle 7.20. Mentre il telegiornale torna domani alle 19.30 in replica alle 20.30. Grazie e buona serata.